Contro il dolore di qualsiasi natura una nuova opzione permette di agire con efficacia in modo rapido e sicuro. Uno dei farmaci antidolorifici maggiormente impiegati, il diclofena, che è ora disponibile anche in una iniezione pronta sottocute con due nuovi dosaggi di 25 e 50 milligrammi oltre alla dose classica di 75 milligrammi. Proprio la via di somministrazione sottocute ad assorbimento molto rapido consente di intervenire nei più diversi casi di dolore acuto dalla colica renale al mal di schiena, riducendo la quantità di principio attivo con pari efficacia sul dolore e nessun effetto dannoso sullo stomaco. La disponibilità di avere 25, 50 e 75 milligrammi e come possibilità di somministrazione ci permette di tagliare su misura l'utilizzo di questo farmaco con dosi appropriate per il malato e con le sue caratteristiche. È un farmaco di primo intervento in pazienti selezionati e con il controllo e la supervisione del medico. Noi abbiamo una siringa per impita con dosaggio al di sotto delle norme previste da AIFA, perciò sicuro, efficace perché la via sottocutanea è la via più efficace e in autosomministrazione.